Il compromesso c'è, mancano i dettagli e allora tutto rimandato ad un incontro settimana prossima, alla vigilia del Consiglio europeo. Sul tavolo dell'Ecofin il meccanismo unico di risoluzione bancaria. Primo nodo i finanziamenti, l'intesa è per una fusione dei fondi di risoluzione nazionali in un singolo soggetto entro i prossimi dieci anni. Germania e Finlandia temono di dover pagare per i salvataggi bancari degli altri paesi, ma Francia e Spagna assicurano che i costi saranno condivisi. L'altro punto è il processo decisionale che lo stesso commissario europeo Michel Barnier ha definito troppo complicato. L'accordo ruota intorno ad un consiglio di risoluzione, ma non è chiaro il ruolo che assumeranno la Commissione europea e lo stesso Ecofin.